Si è parlato abbastanza tanto, sono già stati coinvolti gli aspetti politici di Chusing Wiles, abbiamo qui una persona che ce ne parlerà, che è un medico, che è un politico, è il dottore Ignazio Cassis, molti di voi lo conosceranno, che è parlamentare a Berna, membro della Commissione di Sicurezza e Salute Pubblica, che è un medico internista, specialista in salute pubblica, che ha occupato la posizione di medico cantonale. Forse non eri ancora arrivato Ignazio, ma i politici sono già stati chiamati ad esprimersi stamattina e quindi adesso ti lascio la parola per una tua visione su questo aspetto nei prossimi 20 minuti. Grazie mille. Grazie a te Mattia, grazie all'ente ospedaliero cantonale per avermi invitato e per dedicarmi l'onore dell'ultima relazione. Prima di tutto mi felicito con l'ente per aver preso l'iniziativa di chinarsi su questo aspetto, che non è un aspetto che crea grande simpatia in prima battuta, perché va verso una direzione che è percepita come razionalizzazione, addirittura razionamento di ciò che è a disposizione e quindi di principio c'è una reazione di chiusura. Io vi chiedo di adesso fare uno sforzo, siamo partiti con il professor Gaspo dalla Società Svizzera di Medicina Interna e dal mondo medico internazionale, siamo scesi un po' di quota sull'inizio ospital di Berna con il professor Rodondi, siamo entrati nelle viscere dell'azienda ospedaliera cantonale EOC, io adesso vi chiedo di spiccare il volo e partire a 10.000 metri d'altezza, lasciare i vostri panni di operatori sanitari per chi li avesse e mettervi nelle vesti del cittadino perché sarà questa la mia altezza del volo. Che troppa medicina uccida non è una novità, lo sappiamo da tanto tempo, Muglier scrisse in un suo scritto, è morto di quattro medici e di due farmacisti, questa era la causa della morte. 200 anni dopo, nel 1800, Pasteur scrisse il miglior medico è la natura, guarisce tre quarti delle malattie e non sparla dei suoi colleghi. Credo che anche in questo molti di noi ci possiamo ritrovare. Per venire a personaggi un pochino più lontani dalla medicina ma piuttosto nella riflessione filosofica, cito Ivan Illich, un quasi contemporaneo, il vero miracolo della medicina moderna è di natura diabolica, consiste nel far sopravvivere non solo singoli individui ma popolazioni intere a livello di salute personale disumanamente bassi. Voi conoscete Ivan Illich come uno scrittore molto critico ma i cui scritti oggi stanno in buona sostanza aprendoci gli occhi su quello che lui ha visto prima degli altri. E da ultimo il mio eroe personale che è anche un medico ma non è diventato famoso come medico ma come cantante, Enzo Iannacci, un Meneghin di Milano che disse la medicina moderna ha fatto veramente enormi progressi, pensate a quante nuove malattie ha saputo inventare. Questo era l'entrata per semplicemente renderci conto che fin dalla notte dei tempi, ci sono citazioni anche di Ippocrate, ma fin dalla notte dei tempi c'è stata la consapevolezza che la medicina è un'arma potente sia nel bene che nel male. È soltanto però nel 2002, cioè nel ventunesimo secolo, che il mondo scientifico ha seriamente cominciato a considerare che troppa medicina uccide. Uno dei primi shock che ci sono stati è stato questo editoriale del 13 aprile 2002 del British Medical Journal, un'altra rivista molto importante, con l'editorialista Richard Smith, un caro amico anche del nostro Gianfranco Domenighetti, che ha lanciato un po' questo dibattito rompendo le uova nel paniere di un mondo medico molto restio a questo tipo di discussioni. Giustamente è stata, Angela Greco ha citato prima Domenighetti, io ero un giovane medico assistente quando lui pubblicava i primi studi sull'eccesso di medicina e mi ricordo il tenore di odio che esisteva nell'ordine dei medici del canton ticino verso Gianfranco Domenighetti l'ho raramente rivisto successivamente addirittura nei miei confronti, quindi era inferiore, quindi è un buon dire la cosa. La popolazione cosa pensa e cosa dice? Beh, lo vediamo qui, dal 2003 al 2015, alla domanda che bilancio tira lei dopo 19 anni di Lamal in Svizzera, questa legge che definisce il nostro sistema sanitario. Vedete che in verde chiaro e in verde scuro siamo arrivati nell'ultimo anno a un altissimo percentuale di popolazione che tira un bilancio positivo, cioè non soltanto è molto positivo oggi ma è crescendo da praticamente 15 anni e questo come politico è tutto sommato l'obiettivo principale, che la popolazione sia contenta di quello che ha e di come funzionano le cose. Nonostante questo c'è puntuale ogni autunno la retorica dell'aumento dei costi della salute e di riflesso dei premi di casse malati. Di riflesso c'è anche l'aumento delle imposte cantonali, ma siccome queste non vengono presentate a noi cittadini che le paghiamo divise nelle voci dove andranno a finire i soldi non ce ne accorgiamo, ci accorgiamo semplicemente che paghiamo le imposte, ma anche lì evidentemente c'è una parte crescente che va nella sanità. I premi invece li vediamo, li vediamo tutti i mesi quando giungono a casa e anche un aumento regolare come quello che vedete su questa riga con fondamentalmente la Svizzera di sotto, il Ticino che progressivamente si è avvicinato, vedete la distanza che tende a diminuire, è vissuta ogni anno con una grande enfasi emotiva e si parla di stangata anche se in realtà è una cosa estremamente costante da 16 anni a questa parte. Il costo della sanità è il rapporto tra il prezzo della prestazione e il volume delle prestazioni, nulla di nuovo. Con Choosing Wisely, con Less is More, in fondo noi vorremmo agire sul volume delle prestazioni. Certo c'è anche un'altra ragione che è quella che troppa medicina uccide, al di là dei costi. In fondo vorremmo avere una medicina che aiuta e non che uccida, non che peggiori la situazione dei pazienti. Però evidentemente la diminuzione del volume di prestazioni, se troppo volume uccide, è evidentemente legata anche a un controllo dei costi, quindi forse non deve stupire che soltanto negli ultimi dieci anni c'è stata una presa di coscienza di questo elemento. Vi dicevo il problema dei costi molto enfatizzato, proprio di ieri la notizia dei premi, tutti i giornali oggi più o meno enfatizzano, a dipendenza dell'indirizzo del giornale, con certi aggettivi o altri. Ma se guardiamo cosa pensa la popolazione, ci accorgiamo che alla domanda qual è oggi il problema, ci dica i cinque problemi più importanti che vede per la Svizzera, voi vedete che la questione di premi di casse malati e sanità finisce al quinto posto, mentre guardate questa curva rossa dove era nel 2003. Eravamo al secondo posto, subito vicinissimo al problema della disoccupazione. Quindi anche il problema costi e premi di casse malati in questo barometro delle preoccupazioni popolari che ogni anno il Credit Suisse fa fare all'istituto GFS di Berna, è scesa a un livello abbastanza basso e si è fatta superare dalla paura degli stranieri, dal problema delle casse pensioni dell'AVS e dalla gestione degli asilanti. Quindi anche qui è interessante notare come la percezione veicolata dalle testate mediali di fronte a una notizia non necessariamente correla con la reale opinione nella popolazione. Che molti medici possano far ammalare i pazienti sta diventando anche un tema che si riscontra espresso nel bollettino dei medici svizzeri. Cosa che fino a una decina di anni fa era più o meno tabù. Adesso si sta aprendo un po' per volta, con grande coraggio anche da parte del bollettino dei medici, un po' un esame autocritico. Cioè dove vogliamo andare a parare con la medicina che facciamo oggi. c'è stato proprio quest'anno, il 28 aprile, a Berna, un simposio patrocinato dall'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche che, lo ricordo, è un po' un club accademico, è in buona parte finanziato da noi cittadini tutti insieme, di cui vedo il professor Sutter con il quale ho lavorato vari anni e vedete cosa dice il capo redattore del bollettino dei medici svizzeri, dice ecco non mancava materia di discussione ma naturalmente le domande scaturite erano ben più numerose che le risposte che abbiamo potuto dare alle domande. L'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche ha iniziato, l'ha detto il professor Rodondi, ma lui si è limitato soltanto a un feedback non così lungo, forse perché è più giovane di me, in realtà è iniziato molto prima, è iniziato all'inizio del 2000 con un processo che si chiamava Nuovi Orientamenti della Medicina ed è soltanto dopo questo processo che è entrato in questa nuova dimensione di riflessione sulla sostenibilità economica e medica della medicina e sono molto contento che l'Accademia abbia affrontato questo tema. Il problema che io vivo come politico è che per intanto resta una discussione essenzialmente confinata nelle mura accademiche e che difficilmente fa fatica a uscire da questo mondo un po' ovattato dell'Accademia. Quindi che cosa è questa Choosing Wisely? Che cosa sono queste nuove parole? Too much medicine, less is more, smart choices, medicine, wise medicine, eccetera. E' forse soltanto pubblicità? Siamo di fronte a una nuova retorica, a una retorica alla moda come lo era Patient Empowerment negli anni Ottanta o Health Literacy dieci anni fa. Ogni epoca produce le sue mode con il suo vocabolario e qui come politico naturalmente, io naturalmente so un po' di più che la media dei politici che i miei colleghi, ma la maggioranza dei miei colleghi è scettica di fronte a queste nuove parole, soprattutto se sono in inglese, perché c'è sempre la paura che stiano a nascondere dei processi pubblicitari per chiedere più soldi. Questo è un'emozione sempre molto presente sia a destra che a sinistra del Parlamento. Ciò nonostante, in Parlamento, qui vedete la sala del Consiglio nazionale dove abbiamo finito questa mattina alle 11 la legislatura, la 49esima legislatura dal 1848, ciò nonostante dicevo negli ultimi tre anni molti parlamentari hanno sottoposto dei cosiddetti atti parlamentari, mozioni, interrogazioni, interpellanze, eccetera. Cioè hanno voluto interrogare in qualche modo il Governo, il Consiglio federale, sulla questione del sovraconsumo. Qui vedete soltanto due mozioni, una dalla collega Schmidt-Federer di Zurigo, una mia, con la quale abbiamo affrontato questo tema e sono soltanto due, ma avrei potuto farvi vedere il 2012-2011, ce n'era tutta una lunga serie. Queste hanno creato una certa pressione, tanto che il Consiglio federale si è finalmente deciso di lanciare un programma nazionale di ricerca di cui vi lascio scoprire le differenti versioni linguistiche. In tedesco si chiama Gesundheitsversorgung, che ha un suo posto nel vocabolario tedesco. In francese si è dovuto ricorrere a un giro di parole, un système de santé mieux adapté aux défis à venir, e in italiano molto banalmente assistenza sanitaria. Credo che la lingua non rende veramente giustizia a quello che ci sta dietro. Quello che invece è uguale nelle tre lingue è che si tratta di 20 milioni di franchi che possono essere investiti su questo tema, quindi il Fondo Nazionale della Ricerca farà un'apertura, un appel d'offre e chiunque avrà delle idee le potrà sottoporre e partecipare. Quindi a cercare di rispondere alla domanda oggi in Svizzera abbiamo too much medicine, se sì quando, dove, come, in quali situazioni, eccetera, eccetera. Quindi approfondire questo tema. Le emozioni che voi avete visto sono state combattute all'interno del Parlamento da chi invece non voleva che ci interrogassimo sull'eccesso di medicina senza interrogarsi contemporaneamente sul difetto di medicina. La sinistra, evidentemente. E ciò nonostante c'è stata una maggioranza che è andata così, ma questo per farvi capire come c'è anche un elemento ideologico nel parlare di eccesso di medicina, che in politica gioca un ruolo e anche nei cittadini gioca un ruolo le proprie credenze, le proprie ansie, i propri valori. C'è poi dietro tutto l'idea che in fondo noi siamo degli homo economicus, cioè degli esseri razionali che fanno delle scelte più o meno basate sul proprio profitto e da esso adeguano anche il comportamento. Ecco, ho proprio ricevuto ieri un invito a una conferenza che tocca questo aspetto e ve lo voglio segnalare perché secondo me c'è una relazione abbastanza importante tra la filosofia del Less is more e il tipo di dimension built, il tipo di visione umana che sta dietro questo termine. Se noi partiamo dall'idea che dietro c'è sempre un essere che agisce essenzialmente motivato da fattori economici, prenderemo delle scelte diverse che se facciamo invece una ipotesi di partenza diversa. E poi alla fine, quando in generale voi, gli specialisti, non sanno più che pesci pigliare, dicono cosa fa la politica dorme. E si pensa che la politica abbia una specie di bacchetta magica che sia onnipotente e che possa risolvere d'amblè tutti i problemi, dimenticando che non solo ciò non è vero in tutto il pianeta, ma è ancora meno vero in Svizzera dove la politica non fa nulla che il popolo non voglia. Quindi qualsiasi decisione e scelta della politica viene di nuovo sfidata da referendum e da altri meccanismi che permettono al popolo di agire. Quanta e quale regolazione, regolamentazione, questa è la domanda anche di fondo che si pone a livello politico di fronte a un choosing wise. Vogliamo un sistema con più Stato, che pianifica, che crea sicurezza, è quello che vuole la sinistra, o vogliamo un sistema con più privato, dove i meccanismi di mercato siano quelli giusti, lasciando più libertà agli attori, ed è quello che vuole l'emiciclo di destra del Parlamento. Quando mi è stato chiesto, ci dica cosa pensa la politica di questa cosa, non c'è la politica. C'è la politica dei partiti, che ognuno ha i propri valori e vede un mondo diverso gli uni dagli altri. Fatto sta che quello che oggi abbiamo è un sistema di mercato regolato, dove fondamentalmente lo Stato fa le regole e fa l'arbitro, per tutti noi cittadini e pazienti e assicurati, che abbiamo scelto di regolare i fornitori di prestazioni e di metterli in contatto con gli assicuratori, a cui abbiamo delegato popolarmente il compito di occuparsi dei nostri soldi per pagare i fornitori di prestazioni. Abbiamo detto loro, arrangiatevi, fate il più possibile tra di voi, noi Stato facciamo soltanto le regole e guardiamo di vigilare sul tutto. Se questi due elementi del sistema non lavorano più tra di loro, o c'è crisi, o sono bloccati, evidentemente il sistema diventa difficile da gestire e lo Stato non può che assumere un ruolo più importante. E poi c'è la questione della responsabilità individuale. Domanda, lei sta dietro la democrazia diretta? Ma sì, certamente che sono per la democrazia diretta in Svizzera. Ah, e che cosa ha fatto per lei per la democrazia diretta? Non lo so. Viviamo un'epoca dove assumere responsabilità sia come fornitore di prestazioni, sia come assicuratore, sia come cittadino, molto banalmente, non è tantissimo alla moda e preferiamo delegare le cose difficili al torre. Ma sappiamo che non c'è scelta e che le due cose devono andare assieme, sia l'assunzione di responsabilità, sia la preparazione di regole nella società che permetta al cittadino di assumere la sua responsabilità. Ecco la breve storia della medicina con cui concludo. Nel 2000 a.C., dice un anonimo, si diceva, ecco, mangia questa radice. Poi, mille anni dopo, questa radice è pagana di questa preghiera. Nel 1850 d.C., questa preghiera è superstizione, bevi questa pozione. Nel 1940, questa pozione è olio di serpente, ingoia questa pillola. Nel 1985, questa pillola è inefficace, prendi questo antibiotico. E nel 2000, questo antibiotico è sintetico, ecco, mangia questa radice. Non è detto che il tutto sia una ruota e che torniamo quindi da capo alla fine della discussione. Spero di non avervi troppo annoiato come ultimo relatore e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie.